Si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo di monitoraggio dell'azienda di abbigliamento maschile Brioni del gruppo della holding francese Caring sulla situazione produttiva e occupazionale dei siti di Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova nella provincia di Pescara e il sito di Curno in provincia di Bergamo. Lo si legge in una nota del Mise in cui si precisa che al tavolo presieduto dal vice capo di gabinetto Giorgio Soria l'hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, della regione Abruzzo, della regione Lombardia e le sigle sindacali. Nel corso dell'incontro l'azienda ha illustrato l'andamento finanziario del 2018 che si è dimostrato stabile, il nuovo piano industriale che prevede la diversificazione delle linee di abbigliamento in base alla fascia d'età dei clienti, in particolare quella più giovane. Tra le linee strategiche del piano, prosegue la nota, ci sono anche un incremento della produttività e dell'export verso i mercati nazionali ed esteri, tra i quali in particolare quello cinese e russo, che nell'ultimo periodo si sono rivelati favorevoli. L'azienda ha inoltre spiegato che uno dei fattori fondamentali che concorrono al rilancio del marchio è il marketing finalizzato a diffondere la qualità del made in Italy nel mondo. Ma preoccupazione è stata espressa dai sindacati per una strategia che, dicono, a fronte di un aumento della produttività non tutelerebbe i lavoratori. Alla luce dell'incontro di ieri, ricordiamo che l'Abrioni in Abruzzo conta 1.021 dipendenti negli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova e anche il sito di Curno, qui siamo in Lombardia e in provincia di Bergamo. Vi dicevo, alla luce dell'incontro di ieri al MIS, qual è stata la reazione dei sindacati? Luca Piersante, Wiltec Wiltec. Purtroppo noi viviamo una situazione altamente negativa dal punto di vista industriale, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista organizzativo del lavoro e soprattutto dal punto di vista economico-finanziario. Noi siamo davanti ad un'azienda che praticamente negli ultimi due anni ha presentato dei bilanci che a noi non ci ha presentato, con delle perdite medie di 35 milioni l'anno. Quindi negli ultimi due anni abbiamo perso 70 milioni di euro e con una situazione economica del genere, se non c'è Caring, il gruppo Caring, la mamma Caring dietro alle spalle, questa azienda praticamente non esisterebbe. Non esiste e quindi noi siamo fortemente preoccupati. Dal punto di vista industriale abbiamo delle negatività soprattutto sul marchio Brioni, perché non dimentichiamo che loro, è vero che ieri al MIS ci hanno ripresentato due mission completamente diverse. Una per Brioni e una per Roma Style. Roma Style sarebbe la parte produttiva, Brioni sarebbe il marchio e quindi di conseguenza tutti i vestiti, tutti i capi. Roma Style in questo momento soffre tantissimo, soffre tantissimo dal punto di vista organizzativo, industriale e produttivo, soffre una disorganizzazione totale, abbiamo lavoratori che lavorano 45 ore e mezzo la settimana, pagati per 34, lavorano il sabato, oggi per esempio è sabato, stanno lavorando gratuitamente. Sono allo sbando perché l'azienda secondo noi è andata in confusione totale e questo praticamente non fa altro che appesantire oltre alla parte fisica anche la parte psicologica del lavoratore. È un progetto, hanno messo in piedi un progetto che noi più volte abbiamo detto che non rigettiamo, che potrebbe essere buono dal punto di vista di propositi ma è altamente negativo dal punto di vista veramente produttivo e industriale, perché è un progetto che si regge solo e si reggerà solo fino a quando i lavoratori reggeranno fisicamente, psicologicamente questi ritmi di lavoro. Voi avete fatto presente queste cose all'azienda? L'abbiamo fatta presente all'azienda il 30 di novembre quando ci hanno presentato il piano produttivo commerciale, perché non può essere un piano industriale, perché non ci sono investimenti, non c'è la presentazione di investimenti, neanche un briciolo di bilancio e l'abbiamo rifatto presente ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. Dicendo appunto che siamo in una situazione delicatissima e drammatica e che non vediamo un futuro rosso, ma non un futuro rosso da qui a fine 2019, un futuro rosso per il domani, non lo vediamo noi e non lo vedono i lavoratori. Un'azienda che è il fiore all'occhiello di questa zona e che è nata più di 70 anni fa? È nata nel 1945, è conosciuta nel mondo come l'azienda principale per quanto riguarda il discorso della sartorialità. È nata da un progetto, da un'idea, da una visione, ci diceva il sindaco nella riunione che abbiamo fatto al comune, di due imprenditori svedesi che hanno visto, conosciuto e capito che questo territorio, che era la sartorialità, che praticamente denotava già all'epoca, nel 1945, quindi al momento della guerra, della seconda guerra mondiale, e hanno pensato di poter mettere qui il progetto, il modello Brioni. Cosa chiederete martedì all'incontro con l'azienda dei Confindustri? Non lo sappiamo. Noi siamo davanti a una situazione veramente paradossale e la stiamo vivendo anche dal punto di vista sindacale. Noi abbiamo davanti un'azienda che sulla carta è bellissima e meravigliosa, però ha perso di vista la parte produttiva, la produzione, che è praticamente il cuore e sarebbe, tra virgolette, quello che fa girare, che fa muovere il core business dell'azienda, quello che dà ricchezza anche all'azienda. Noi martedì abbiamo un incontro in Confindustria, dovremmo parlare di integrativo premio di risultato. Vi faccio notare una cosa, noi siamo in presenza di un accordo integrativo scaduto, di una piattaforma presentata dall'azienda nel 2017, che il 4 di aprile ci ha detto che praticamente quella piattaforma presentata dall'azienda è vecchia, quindi adesso ci ripresenteranno martedì una nuova piattaforma, ma il problema è uno, che è gravissimo ed è grandissimo. Noi non sappiamo il bilancio, noi non sappiamo gli investimenti, noi non sappiamo come l'azienda intende riorganizzarsi, perché voci di corridoi ci dicono che da qui ai prossimi mesi l'azienda sarà completamente riorganizzata e ristrutturata. Non sappiamo se su una linea di produzione, se su due linee, se su tre linee e quindi dovremmo andare a parlare martedì di un premio di risultato, ma non sappiamo di cosa parlare perché se noi non riusciamo a dare dei parametri, il premio di risultato per noi è indiscutibile. Siamo con Leonardo D'Adazio, Femca Cisla, per parlare della situazione qui a Labrioni che abbiamo alle nostre spalle appena ieri, c'è stato il tavolo di monitoraggio a Roma, cos'è che però non vi convince? Non ci convince perché ormai da dieci anni a questa parte non vediamo più un numero positivo, sia dal punto di vista dei numeri di produzione, sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Dal punto di vista della produzione ormai dal 2009 facciamo ammortizzatori sociali, abbiamo fatto tutti i tipi di ammortizzatori sociali, da casse integrazioni ordinarie, straordinarie, eventi improvvisi e imprevedibili, abbiamo fatto diverse procedure di mobilità dove i lavoratori sono andati via con la non opposizione al licenziamento nella maggior parte dei casi, molti lavoratori, più di 400 lavoratori, nell'arco di questi dieci anni. Abbiamo utilizzato anche il contratto di solidarietà prima di fare una riduzione di orario di lavoro senza ammortizzatori sociali, questo l'abbiamo fatto nel 2016, un accordo firmato il 4 aprile 2016 dove i lavoratori hanno accettato di ridurre l'orario di lavoro a 32 ore settimanali. Siamo andati al Ministero proprio per avere una verifica su questo accordo che era previsto dall'accordo stesso perché ce n'è stato un altro firmato a fine febbraio del 2018 e ratificato in assemblea il 4 marzo. A questo punto noi vediamo sulle slide che l'azienda ha messo a disposizione nostra, abbiamo visto che c'è qualche investimento per quanto riguarda la comunicazione, dicono che fanno investimenti anche sulla produzione e altri, ne vediamo pochi perché non riusciamo a vedere dei miglioramenti. Ad oggi anche la situazione del 2018 è stata negativa come quella degli ultimi dieci anni. Quindi noi speriamo che ci sia un'inversione di tendenza e cominci ad avere Brioni, un rilancio che è l'unica fonte di ricchezza di questa azienda perché è vero che abbiamo una produzione di alta gamma e un know-how con dei lavoratori che hanno una professionalità che non si ritrova in nessun posto del mondo e questo noi lo dovremmo sfruttare, lasciatemi passare il termine sfruttare che è un bruttissimo termine, ma diciamo che per Brioni questa deve essere una fonte assolutamente innovativa che può portare del lavoro in azienda. Tant'è che facciamo delle lavorazioni di altri marchi del gruppo, cioè del gruppo Caring, di Gucci, Bottega Veneta, Vistalloran e Balenciaga che sicuramente i lavoratori hanno volontà di farlo ma hanno bisogno di un'organizzazione che sia efficiente sia dal punto di vista dei flussi produttivi sia dell'organizzazione proprio del lavoro stessa. Achille Laguardia, Filtem CGL. Diciamo che ci sono 1021 lavoratori, 1021 maestranze qualificate negli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova per quanto riguarda l'Abruzzo, poi c'è anche il sito di Curno in provincia di Bergamo. Ieri c'è stato questo tavolo di monitoraggio al Mise a cui avete partecipato anche voi come sindacati, c'è stata la regione Abruzzo, l'azienda e ovviamente il rappresentante del Ministero. L'azienda ha detto di voler produrre, di voler diversificare la produzione, puntare sui giovani, di voler puntare anche sull'export in Russia e in Cina e anche l'aumento della produttività. Però voi dite, sì, tutto questo va bene ma? Tutto questo va bene, non siamo contrari ai lavori dei capi del gruppo che sono diversi da quelli brioni. Però riscontriamo parecchie problematiche per quanto riguarda la produzione di questi capi diversi da brioni in quanto denunciamo un'organizzazione, a nostro avviso, inadeguata per il modo in cui vengono proposti ai lavoratori. Nel senso che noi stiamo lavorando dalla firma dell'accordo di flessibilità siglato qualche settimana fa, cinque settimane fa all'incirca, tutti i lavoratori degli stabilimenti, più che altro Penne e Montebello, lavorano con una media di ore di lavoro settimanale di 44-45. Però non riscontriamo un lavoro lungo le linee produttive, i lavoratori vedono che a volte ci sono anche carenze di lavoro in alcune fasi lavorative, quindi non vediamo la mole di lavoro che sia congrua con queste ore che ci vengono pianificate durante le settimane. Poi quello che denunciamo noi è il fatto che non vediamo un reale rilancio del marchio Brioni, che a nostro avviso è la lavorazione che potrebbe permettere, visto che ha una marginalità di guadagno, di redditività sul prodotto finito, maggiore rispetto agli altri capi del gruppo, quali Gucci, Saint Laurent ed altri. Quindi noi chiediamo a gran voce all'azienda il rilancio del marchio Brioni reale che possa permettere lavoro a tutti i lavoratori nel medio e lungo termine. Martedì avrete un altro incontro in Confindustria? Sì, martedì ci sarà un incontro in Confindustria per proseguire con la trattativa di integrativo, che vediamo come si porrà l'azienda e poi ci regoleremo. Insomma, voi dite il rilancio della Brioni e il rilancio del Made in Italy, soprattutto del Made in Abruzzo, qui dove la Brioni è nata? Certo, noi puntiamo sul lavoro qui in Abruzzo perché è da qui che è nata la forza lavoro, è da qui che è nata e ha fatto grande questo marchio che è il marchio Brioni e c'è un'alta professionalità che non credo che sia una perdita grande per l'Abruzzo ma anche per l'Italia. Grazie a tutti.